Buonasera e bentrovati con Attenti a quei due, un'altra puntata, come sempre riflettori puntati anche sulla politica del territorio e come al solito le presentazioni. Buonasera a te Mario e buonasera ai telespettatori. Oggi apriamo la puntata con una buona notizia, ogni tanto riusciamo a dare una buona notizia la tela di Penelope, perché da mesi e mesi che seguiamo con attenzione l'evolversi del quadro per quanto riguarda gli interventi all'ospedale di Giare, la notizia è che finalmente la camera calda che rischiava di diventare fredda nel frattempo è diventata operativa, nel senso che questa importante struttura che completa in qualche modo l'infrastruttura di assistenza del pronto soccorso è stata aperta. Non c'è una inaugurazione ufficiale, abbiamo saputo da fonti qualificate dell'ASP che l'inaugurazione non sarà fatta almeno in questo periodo, proprio per evitare strumentalizzazioni politiche, visto anche l'imminenza delle elezioni delle europee, comunque è già operativa. Sul posto è andato il sindaco di Giare, ha voluto sincerarsi il sindaco Leo Cantarella, diciamo noi siamo stati proprio in ospedale, abbiamo visto che comunque questa struttura è veramente fatta molto bene. Stuttura di protezione. Esatto, assicurare una protezione al paziente, quindi ottimizzare nel contempo anche la piena operatività del pronto soccorso. Sentiamo il sindaco di Giare, Leo Cantarella, a margine di questo sopralluogo che ha fatto all'ospedale di Giare. Sì, proprio stamani ho fatto un sopralluogo per vedere l'andamento dei lavori, è già ultimato, è stata già consegnata dalla ditta che era stata appaltata. Ci sono, come vedete, gli ultimi tocchi di manutenzione ordinaria, ma è un passo importante dell'ospedale perché la camera calda rappresenta il filtro, soprattutto siamo ormai alle porte dell'estate dove gli ingressi al pronto soccorso saranno sicuramente triplicati e quindi il paziente che viene soccorso deve entrare in ospedale in sicurezza e questo rappresenta, come per resto nella maggior parte degli ospedali, rappresenta appunto un filtro prima di entrare al pronto soccorso e può salvare una vita. Ho, come dire, continuamente la mia, come ho detto anche in consiglio comunale, ma come ho detto in qualsiasi sede, la mia attenzione è massima da sindaco ma anche da medico di questo presidio ospedaliero. L'attenzione è massima anche da parte dei sindaci del distretto sanitario di cui sono appunto i rappresentanti e ci accingiamo appunto a un passo ancora avanti per l'ospedale di Giare. Certamente rimangono ancora delle criticità, c'è già una interlocuzione col nuovo direttore generale, peraltro già ci sono stati dei rapporti ottimi con il direttore generale di prima, mi auguro che il direttore generale nominato sia altrettanto, come dire, collaborativo nei confronti del distretto di Giarre e dell'ospedale di Giarre. Tutto sembra che va per il verso giusto e questo era un passo importante appunto aprire a giorni la Camera Calda. Ho da fondi attendibili che c'è un rafforzamento dei turni di pronto soccorso, ringrazio appunto i colleghi che giornalmente si adoperano per salvare delle vite umane, per dare delle prestazioni sanitarie e ci agiggiamo chiaramente entrando poi a brevissimo l'estate a una stagione lunga dove chiaramente gli accessi all'ospedale, come dicevo poco fa, saranno triplicati e quindi dobbiamo sicuramente organizzarci per dare un servizio sanitario al meglio. Dunque Cantarella a Rosario si dice soddisfatto per questo primo importante intervento, è un segnale di attenzione che l'ASPA ha potuto rivolgere per l'ospedale, insomma ne prendiamo atto positivamente. Certo, di un potenziamento del pronto soccorso, restano comunque in piedi le problematiche che riguardano il potenziamento complessivo della struttura ospedaliera, a cominciare dalla cardiologia e degli altri reparti che dovrebbero essere aperti, è un tema sicuramente questo di grande attualità. Il sindaco Cantarella ha colto l'occasione anche per verificare la piena operatività del pronto soccorso del Sant'Isidore che come sappiamo si appresta ad apportare una fase particolarmente intensa, la fase più critica con l'avanzare della stagione estiva, l'incremento delle attività operative è di almeno il 20% in più, c'è davvero un potenziamento dell'attività in generale anche perché sappiamo dell'incremento della popolazione durante il periodo estivo, si parla di 90.000-100.000 persone nel distretto sanitario di Giare con gli effetti che arrivano soprattutto dai tanti vacanzieri che vanno a Fondachello e a Sant'Anna ma anche a Marina di Cotone piuttosto che Torre Archirafi e Riposto. Abbiamo sentito Giovanni Burtone sulla carenza dei medici al Sant'Isidore di Giare in ragione anche delle vistose carenze in reparti strategici come cardiologia, per esempio cardiologia l'unità semplice attualmente è disattivata, non è assolutamente attiva, questo perché c'è questa fortissima carenza di medici. Abbiamo sentito allora Burtone relativamente proprio all'aspetto del reclutamento dei medici e lui ha proposto la sua idea, sentiamo. Un ospedale tale, a mio parere, posso sbagliarmi e io lo dico in punta di piede, se ha il pronto soccorso, un reparto di medicina, di chirurgia e una rianimazione, sono fondamentali perché altrimenti diventa un ospedale con grandi limiti. Io penso che l'ospedale di Giare debba ritrovare una sua organizzazione con quelle caratteristiche che mi sono permesso di annunciare, di sottolineare perché raccoglie un bacino, specie nel periodo estivo e non soltanto nel periodo estivo, che è proprio quello dell'area montana, ma anche dell'area giarrese, ionica, da Mascali a Calatabbiano a Riposto, a Giarre. Sono località marittime che in estate esplodono dal punto di vista della presenza di persone. In inverno abbiamo l'Etna che da questo versante raccoglie anche delle presenze significative, quindi io credo che l'ospedale sia importante. Tra l'altro, lo dico questo senza voler fare battaglie municipalistiche, hanno chiuso nel passato parecchi ospedali, quelli che rimangono sono fondamentali, sono fondamentali perché altrimenti scoppia la sanità nella città. Guarda io sono andato ad accompagnare delle persone nei pronto soccorsi anche a Catania, a Cannizzaro, al Policlinico. I tempi di attesa non sono brevissimi, sono tempi lunghi, quindi alcuni interventi che vengano fatti direttamente nel territorio, io credo che siano fondamentali. E poi un certo tipo di chirurgia, un certo tipo di medicina può essere utile. Certo, se c'è un infarto e si deve fare un intervento di angioplastica e tutto il resto, c'è bisogno dell'interventistica, bisogna andare su Catania. Ma se non c'è questa caratteristica, ma parliamo di una patologia aggredibile nei nostri territori, perché non si deve fare? Questo significa mettere nelle condizioni lo stesso paziente, di vivere con un'umanizzazione il rapporto alla sanità, perché rimane dentro la propria città, ha i propri parenti che possono assistere. E questo non è secondario. Guardi, dopo il Covid, io credo che ci sia bisogno di tornare ad una umanizzazione della sanità. E questo si è perso in gran parte nelle nostre comunità. Allora, Burtone dice Rosario con forza che è necessario che la facoltà di medicina venga resa accessibile a tutti, almeno per la medicina. Il superamento del numero chiuso. Esattamente. Che è stato bloccato di fatto. Che ne pensi di questo aspetto? Secondo me questa è una cosa di cui si discute da anni, il superamento del numero chiuso. Si devono anche superare alcune ostilità, soprattutto da parte dell'ordine dei medici nazionali e naturalmente dopo quattro anni dal Covid, la necessità che si proceda a delle assunzioni alla sanità appare piuttosto evidente. Ci sarebbe anche da discutere su questi temi, allargare il confronto, il fatto che l'Italia ha scelto di non far proprio e di non accettare il MES per la sanità, che poteva essere anche uno strumento utile e indispensabile per il ricordamento personale e per il finanziamento strutturale. Ma sicuramente uno dei punti importanti in questo momento è il superamento del numero chiuso, che naturalmente se si dovesse superare nei prossimi anni ci vorranno anche altri anni affinché il reclutamento del personale sanitario sia all'altezza. Cambiamo pagina e parliamo di politica e restiamo a giarre perché ormai siamo prossimi a quella che sarà la seduta consigliare più importante sicuramente di questi ultimi cinque anni perché per il prossimo 23 maggio è stata fissata la seduta durante la quale dovranno essere approvati cinque bilanci, cinque consultivi arretrati e quindi di fatto è un momento topico perché l'obiettivo è certamente di salare le fila e uscire il più rapidamente possibile dalle secche del distesto, ne abbiamo parlato più volte. Però c'è nel frattempo anche un po' di tensione all'interno del Consiglio Comunale, ci sono delle beghe interne soprattutto all'interno della maggioranza, tant'è che il sindaco è stato costretto a convocare una riunione di maggioranza proprio per fissare alcuni paletti o quantomeno alcune date. Sappiamo che ci sono due consigli comunali che prescindono dall'attività legata al bilancio, una durante la quale si occuperà della relazione annuale del sindaco e l'altra invece la prossima settimana per quanto riguarda invece l'attività ispettiva. E poi questa del 23 maggio quando praticamente l'assise del Consiglio dovrà occuparsi per l'appunto della votazione di cinque bilanci degli ultimi cinque anni. Da parte della minoranza c'è un po' di scetticismo perché l'amministrazione vorrebbe chiudere la pratica già con un'unica seduta, mentre l'opposizione fa sapere per bocca dell'avvocato Leo Patanè che è necessario almeno una o più sessioni di... È improbabile una sola seduta perché i temi sono in oggetto solare, soprattutto per la maggioranza di Leo Cantarella che in questo momento riceve continui distingue da parte dei suoi componenti, a cominciare dal Presidente per finire ai consiglieri comunali. Io credo che in un'unica seduta è improbabile che si saurisca la pratica. Restiamo a incoraggiare, parliamo invece di un altro tema particolarmente delicato, parliamo di emergenza abitativa perché sono in fase di completamento i lavori di ristrutturazione dei famosi 60 alloggi di Via Trieste. Qual è il problema? All'orizzonte c'è ancora quel bando che non c'è, il bando per quei 14 alloggi che non sono stati ancora assegnati. È un problema di ordine pubblico perché questi alloggi non assegnati rischiano di essere occupati abusivamente? Assolutamente sì ed è la preoccupazione che è stata tra l'altro in qualche modo rimarcata dal Sunia che ha trasmesso proprio in questi giorni una nota all'IACP di Acidiale che è il proprietario dell'immobile ma soprattutto all'amministrazione comunale perché acceleri i tempi per questo bando. Dal comune si apprende, abbiamo saputo dall'assessore alle politiche sociali Giussi Savoca ma anche dallo stesso sindaco che l'ufficio case si è già attivato e il bando dovrebbe essere pubblicato a giorni. Però è chiaro che nell'imminenza del completamento dei cantieri sappiamo che il bando dovrà essere pubblicato, ci sia tutta una tempistica da rispettare, bisogna evitare che l'impresa vada via e che resti senza vigilanza quel cantiere, quel complesso edilizio proprio perché abbiamo visto in passato nella migliore delle ipotesi c'è un'occupazione abusiva. Dalle case popolari di via Trieste adesso invece torniamo ad occuparci di politica, ci spostiamo esattamente di pochissimo, di circa un chilometro, non di più, ci spostiamo sul riposto e parliamo invece della prima relazione semestrale del sindaco di riposto Davide Vasta, ci sono state due sedute e durante l'intervento dei consiglieri di minoranza nel corso della seconda seduta non sono mancate le tensioni. Ma noi vogliamo ricostruire insieme un po' queste due sedute e lo facciamo con un ospite che è particolarmente gradito e cioè Mariela Di Guardo. Buonasera, ben trovata. Buonasera. La di Guardo che sappiamo è impegnatissima, soprattutto in consiglio comunale e anche con le dirette social, ultimamente ha trovato questa soluzione, diciamo… Si è messa in linea col sindaco. È un'attività che mi piace fare, anzi mi pento di non averlo fatto prima perché è giusto che i cittadini partecipino alla vita pubblica e quindi devono conoscere quello che accade affinché tutto non rimanga all'interno delle mura del palazzo. Allora il sindaco di riposto, Rosario, ha presentato questi suoi primi sei mesi, mi pare che siamo da giugno a ottobre, giusto da giugno a dicembre 2023 e questa relazione semestrale fa il punto su quella che è stata l'attività di questi pochi mesi e sono elencati in sette capitoli. Il sindaco si sofferma innanzitutto su una serie di opere e lavori pubblici, poi parla delle attività culturali, si sofferma anche sul contenzioso, sulle misure defattive del contenzioso, entra nel merito anche della gestione del personale, poi una parentesi anche sui servizi sociali, quindi il welfare con quelle che sono le politiche attuate, la gestione finanziaria che ha trovato il sindaco sin dal suo insediamento, quindi c'è ovviamente un riferimento a questo e poi naturalmente anche la tutela ambientale. Allora a partire dalle opere pubbliche è stata la cosa che abbiamo notato subito e adesso ci dirà meglio anche il consigliere di guardo, sulle opere pubbliche abbiamo notato una mera elencazione di interventi che già conoscevamo da tempo, per esempio una delle opere citate è la famosa realizzazione della strada di collegamento, la male neve, già avviati, poi gli interventi per la messa in sicurezza di alcuni tratti di alcuni importanti torrenti, interventi di manutenzione per le scuole, lavori di adeguamento funzionale della palestra Pirandello, insomma una serie di opere, almeno una decina, che comunque non appartengono a questa amministrazione, quindi non capiamo questi richiami, questi riferimenti con quale criterio siano stati inseriti in questa relazione ed è un quesito che si è posto subito in apertura da questo consiglio. Io se voi permettete anche per fare l'aggiornamento normativo vorrei dire perché noi oggi assistiamo alla presentazione di questa relazione senestrale del sindaco, perché c'è stato un intervento normativo recentissimo che è di febbraio del 2024, la regione siciliana ha rinverdito la relazione annuale, era diventata annuale, perché la relazione del sindaco prima semestrale poi è diventata annuale era già prevista dalla legge 7 del 92 e successive modificazioni. È stato un tribolato percorso questo della relazione, perché ripeto prima era semestrale poi è diventata annuale, poi i sindaci non la presentavano, moltissimi sindaci non la presentavano, i consiglieri comunali non facevano più eccezione sulla questione e finalmente il legislatore ha messo un punto e ha detto nel mese di febbraio del 2024 con la legge 119, sindaco tu se non mi fai, sindaci voi, se non mi fate la relazione che deve essere fatta entro un anno a partire dall'anno delle elezioni, io vi applico delle sanzioni e questo passaggio mi pare importante, no dottore Sorace, Mario, dobbiamo capire, cosa sono queste sanzioni? Le sanzioni consistono nella riduzione dell'1% dei trasferimenti di un fondo che è stato costituito e che si costituisce con i versamenti degli incassi IRPEF regionali, quindi viene tolto l'1% dei trasferimenti e di questo i sindaci ne devono tenere conto, inoltre c'è una sanzione strana, cioè che viene decurtato il 10% della indennità del sindaco. Quindi obbito ortocollo. Obbito ortocollo e se noi consideriamo che questa amministrazione ha ritenuto bene, nonostante insomma la legge abbia parlato di discrezionalità, ha ritenuto bene di farsi un bel aumento delle indennità alla decurtazione forte. Abbiamo visto oggi con quale tempistica immediatamente, abbiamo visto già dal laboratorio online si vince che la documentazione è stata portata avanti con una certa celerità. Insomma parlando di questo aumento dell'indennità, parlava come se il comune fosse in uno stato di opulenza, mentre per esempio per quanto riguarda noi consiglieri comunali che prendiamo un gettone di presenza irrisorio ma noi non facciamo politica per denaro, ha detto una cosa assolutamente errata, che c'era stato un cambiamento nell'entità, un mutamento nel passato nell'entità di questo gettone che mai a noi era stato fatto il recupero. c'è per loro grande abbondanza di indennità, a noi vogliono applicare un ulteriore recupero. Noi abbiamo naturalmente tirato fuori una lettera dell'allora segretario dottore Marano e abbiamo dimostrato che il recupero era stato fatto, quindi si dicono falsità sempre per creare il senso di colpa nell'avversario. Queste sono tecniche oratorie che io non ho mai utilizzato. Veniamo ora alla relazione, quindi posto ciò il sindaco si è affrettato e dobbiamo dire anche che si pone un problema interpretativo perché la legge dice un anno a decorrere dalla data delle elezioni, però questo anno non lo spiega se deve essere l'anno solare, cioè nel caso del sindaco Vase entro il 2023, la decorrenza dalla data dell'elezione, però un anno non sappiamo se si conta come anno solare oppure i 365 giorni, quindi avrebbe potuto farla a mio giudizio anche a giugno del 2024, quindi un anno di 365 giorni. Ma lui forse per non rischiare ha voluto essere più realista del re e quindi l'ha fatta diciamo per i primi sei mesi e ha usufruito anche dai 60 giorni di ulteriore termine che mette la legge, dopodiché subendo il commissario. Venendo al merito della relazione, io ovviamente sono rimasta molto delusa, non sono stata la sola destra delusa e non ho voluto fare però una comparazione con il suo programma politico perché onestamente un periodo di sei mesi è troppo breve per fare delle realizzazioni, anche se ci sono, voi mi insegnate, i famosi 100 giorni di Berlusconiana a memoria, la realizzazione dei programmi entro 100 giorni e qua sono state di gran lunga… Quella era la fabbrica dei sogni. Sì, ma comunque 100 giorni qua abbondantemente superati. Quindi non ho fatto questa comparazione, però mi sarei aspettata a due cose, dal momento in cui, come diceva bene lei, lui fa un'elencazione di opere pubbliche, messe in sicurezza, efficientamento energetico, sistemazione strutturale delle scuole, sistemazione della riflessione scolastica, della menza scolastica, mi sarei aspettata quantomeno che avesse detto chiaramente queste sono opere iniziate dal mio predecessore, questa era una cosa che io mi aspettavo, ci sono le date ma non si fa assolutamente riferimento all'attività del sindaco precedente, non dico dell'amministrazione precedente perché i componenti della giunta di Vaste che se ne sono andati e si sono allontanati dalla nostra coalizione, se ne sono andati affermando che si spostavano altrove perché Caragliano non li faceva lavorare, quindi evidentemente tutto quello che è stato fatto è opere del sindaco precedente. E quindi questo non è stato specificato, lo desumiamo noi che siamo a conoscenza che queste attività erano state incardinate già nella gestione precedente, ma il cittadino che non lo sa pensa che sono opere di questa amministrazione. Per esempio tra questa elencazione, io leggendo, sbricciando questa relazione, leggo per esempio gli investimenti destinati alle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico, ma siamo parlato della normale attività di un comune che offrisce dei fondi previsti, cioè come li ha già... Fondi già stanziati, infatti come ho detto... Qual è il miracolo da evidenziare? Io ho una domanda vorrei farle, allora da questa relazione, naturalmente queste cose è evidente che sono cose già partite con la precedente amministrazione, quindi si fa una riproposizione. L'utilità di questa relazione, c'è qualche atto che lei ha letto che riguarda questa amministrazione? No, nessun atto, nessun atto. Queste attività sono state non solo avviate con l'amministrazione, ma avevamo già il finanziamento, quindi erano in uno stato avanzato, diciamo, si trattava solo di fare i bandi laddove era necessario fare il bandi, gli affidamenti, gli affidamenti tecnici, gli incarichi, insomma il completamento. Quindi io non ho visto nessuna indicazione e poi ecco la delusione fondamentale che ho avuto della relazione è che proprio perché il periodo di osservazione è sei mesi, avrei voluto vedere almeno quando diciamo un'amministrazione ha l'idea di quello che deve fare, anche perché il sindaco in campagna elettorale faceva capire che aveva fatto miracoli, avrebbe rivoltato il paese come un calzino e soprattutto sarebbe diventato un paese smart, mi ricordo questo aggettivo, che sarebbe diventato un paese smart. Potessi che lo diventerà in futuro, però io avrei voluto vedere, diciamo, la stesura di un piano, di un programma in questa relazione, io ho portato a compimento le attività già iniziate, ma il programma per il futuro è questo. Noi non abbiamo visto un programma futuro e devo dire anche, e dobbiamo anche considerare, che già siamo ad altri sei mesi, cioè già siamo a maggio, siamo a giugno, già siamo quasi a un anno e in questi sei mesi che non fanno parte della relazione del sindaco non abbiamo visto nel bilancio nessuna programmazione, perché il bilancio è programmatorio, è certo che si naviga a vista. Diciamo che questa relazione, quello che abbiamo visto fino a questo anno, perché a giugno, il 3 di giugno fa un anno, è il mantenimento, la conservazione dello status quo. Io ho trovato assolutamente, ho strabuzzato gli occhi, per esempio, su un'altra questione, per esempio l'emergenza etna, cioè citare 22 mila euro per pulire le strade. Quando lei si ricorderà che sono state tolte tonnellate, quintali, io non conosco bene le misure. Evidentemente è un qualcosa di straordinario. Sì, si ricorda la copiosa cenere vulcanica che cadde mi pare 3-4 anni fa, non so se fu prima del Covid, ma comunque il paese è inondato, non solo riposto, giarre, tutto l'Interland, anche a Giardini quella volta arrivò la cenere vulcanica, si sono spesi penso circa un milione di euro per la rimozione, c'è stato l'intervento della regione siciliana, quindi diciamo ordinaria di amministrazione che serve per mantenere quello che già c'era. Nessuna svolta, nessuno di questi settori che ha elencato vasta nella relazione. Alcune cose addirittura, io ritengo che lui, infatti io ho fatto la mia elencazione dei capitoli, ho parlato di atti gestionali che sono stati fatti e non avrebbero dovuto essere fatti e atti non fatti che invece avrebbero dovuto essere compiuti, per esempio io da sindaco avendo nella possibilità da poco insediatomi avrei rimodulato il piano di riequilibrio per farlo diventare un piano di riequilibrio mio e che quindi mi avrebbe consentito anche una politica diversa in termini di assunzioni. Qua si contraddice quando parla che in una parte dice che non può fare assunzione delle figure apicali, ragioniere e quant'altro perché proprio è vincolato dal piano di riequilibrio ma l'altro giorno in consiglio comunale ha dichiarato che aumenterà le ore ai contrattisti e non vedo come potrà farlo visto che nel piano di riequilibrio c'è il tetto, il vincolo che non si può superare la spesa per il personale, forse utilizzerà fondi delle persone che sono andate in pensione, questo non so come farà ma la via più breve ed è quella che avremmo fatto noi se avessimo vinto le elezioni era quella di rifare il piano di riequilibrio. A proposito di piano di riequilibrio, lucitando il piano di risalamento rivisitato nel luglio del 2022 dice che non è stato ancora esitato dalla Corte dei Conti e non risulta, dice che a quella data si è stata effettuata alcuna azione di monitoraggio finalizzata proprio a verificarne la concreta attuazione e che comunque non risulterebbe addirittura neanche munito degli atti preparatori della rendicontazione e pianificazione economico-finanziaria, è così? Non lo so, il sindaco fa tante affermazioni denigratorie, lo dice, diciamo è della stessa specie, perché non lo dimostra, è della stessa specie dei gettoni di presenza che ha affermato che mai ci sono stati ridotti, invece noi abbiamo subito delle decurtazioni, lui lo afferma ma non abbiamo contezza, non è che dimostra quello che dice. Poi si sofferma sul ruolo infungibile anche del responsabile del servizio finanziario. Ma qui io non vorrei tornare su questo argomento perché proprio in questa sede ne abbiamo parlato più volte, dice bene, il ruolo è tanto infungibile che ha nominato un esperto contabile, avrebbe dovuto immediatamente, anzi io ritengo che, poiché lui aveva quasi tutta l'amministrazione, la maggioranza di Caragliano, quella maggioranza avrebbe dovuto avvisarlo, ma per poterlo avvisare insomma ci vuole anche la conoscenza dell'importanza di ciò che mancava nell'ente, avrebbe dovuto dire guarda che non c'è il ragioniere generale e dobbiamo immediatamente, già mentre siamo in campagna elettorale, insomma pensando di poter vincere, noi per esempio ci pensavamo a questo ragioniere generale e ne avevamo già individuato qualcuno, avrebbe dovuto immediatamente passare alla ricerca di un ragioniere generale, invece il ragioniere generale si è insediato poi a novembre, tra l'altro viene soltanto due giorni alla settimana. Sappiamo peraltro che il ragioniere è in scadenza, mi pare che a maggio, ha avuto una proroga a fine maggio e non sappiamo se la comuna di provenienza rinnoverà questo scavato. Invece un capitolo corposo che abbiamo visto in questa relazione del sindaco è quello relativo al contenzioso e alle misure defattive proprio del contenzioso, lei su questo aspetto si è particolarmente soffermata anche per alcune presunte discresie rispetto al ragionamento del sindaco? Guardi, gli strumenti defattivi del contenzioso sono elencati dalla legge, io ho contestato un'operazione che l'amministrazione ha fatto e non capisco perché l'ha fatta. La mia posizione è e resta sempre la stessa, è stato uno strumento improprio l'utilizzo di questo strumento defattivo. Inoltre qui hanno accolto sicuramente i suggerimenti che io do dal primo momento, quelle di calcolare il rating del contenzioso, cioè la sostenibilità dei ricorsi che ci sono in commissione tributaria, oggi corte di giustizia tributaria o comunque nei tribunali civili e valutare se è il caso di rinunciare alla prosecuzione del contenzioso oppure andare avanti, perché il contenzioso va valutato anche in termini di risultati di sentenze analoghe, per materie analoghe, per discipline analoghe e questo è un suggerimento che io ho sempre dato e scrive qua il sindaco che lo sta attuando, magari lui dirà che non l'ha fatto perché, lo dico io, ma perché… Ecco, io ho usato poco fa un'espressione molto cara alla cittadina ripostese, questa amministrazione navica a vista, non dando un giudizio tanto di valore, probabilmente in difficoltà anche di carattere oggettivo. Ecco, in questa relazione da quello che lei ci dice non c'è una programmazione futura e soprattutto si fa riferimento a quello che retroattivamente si è fatto prima. Secondo lei quali sono i punti di criticità oggi della realtà ripostese? Dove l'amministrazione comunale sta dimostrando di non sapere intervenire? Ma i punti di criticità dell'amministrazione non sono molto diversi da quelli di altri comuni. La maggior parte dei comuni ha problemi di criticità, diciamo, che fanno riferimento al bilancio, cioè i bilanci non sono floridi, non sono ricchi, non si incassa. C'è uno spazio di manovra ridotto. E quindi è uno spazio di manovra, però io faccio sempre il paragone con la gestione precedente, le criticità e dove l'amministrazione non sta dando prova di sé, a questo punto neanche nell'ordinario e per esempio nella pulizia del paese, il cimitero, ecco, vogliamo parlare del cimitero? Il cimitero è in uno stato di degrado assoluto, è stata tagliata un po' di erba nel periodo di Pasqua, ma già questa erba è cresciuta di nuovo, ci sono rubinetti che non funzionano. Si prevede qualche progetto nella relazione sul cimitero? No, 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 non si prevede, ecco, a dice bene... Sul cimitero c'è un passaggio dove lei è intervenuta, tra l'altro, la questione dei loculi... Le ville, per esempio... Quella è un'altra... Le ville ne ha anche, le ville non sono pulite, cioè non... Basta vedere le condizioni in cui è persa... La villa Pantano... La villa Pantano è già la sintesi delle... Ecco, questo tema dei loculi è importante, perché qui ho registrato un'anomalia, cioè la Giunta ha deliberato di costruire, di far realizzare un tot numero di loculi, ora magari sbaglierò il numero, però la differenza è uguale, mi pare 33 c'è scritto nella relazione. E viene fatto questa, questa scelta viene operata con delibera di giunta, a distanza di poco tempo il funzionario con propria determina modifica la delibera di giunta, già questo è anomalo, perché un atto, diciamo, di un organo inferiore non può modificare una volontà politica espressa in un certo numero. La modifica in riduzione, dicendo che forse i soldi non erano sufficienti per realizzare questo numero di loculi e quindi anziché 33 ne fanno 26, 27... Non c'è una revoca della delibera? Non è stata revocata la delibera, quindi una riedizione della delibera. Ci sono stranezze, però. Stranezze, ma la stranezza delle stranezze è che quando tu ti rendi conto che dopo aver fatto l'affidamento i soldi sono insufficienti, devi aggiungere soldi, saranno stati 10, 12, 15 mila euro, impegnando anche il bilancio pluriennale, perché oggi con la contabilità armonizzata si può fare, quindi impegni gli anni... perché hanno ridotto il numero e non realizzare lo stesso numero di loculi, diciamo, con l'impegno dei bilanci futuri, del bilancio pluriennale? È una cosa assolutamente sbalorditiva, io ho visto variazioni in corso d'opera e anche queste ho contestato perché non può costituire una regola, ma ho visto variazioni in aumento, ma in diminuzione. Di questo cercheremo una spiegazione, che abbia una logica amministrativa ed anche giuridica. E poi insomma tante cose, poi ripeto anche il tipo di linguaggio che usa il sindaco quando dice a noi dell'opposizione che non facciamo proposte, che non siamo propositivi, noi abbiamo fatto solo proposte, per esempio io con una frase che in questo periodo dice il nostro premier, io ho fatto la madre di tutte le proposte ed è stata quella che qualora avessero avuto bisogno di un aiuto nel settore dei tributi o nel condizioso, io ero disponibile a dare, ma non sono… Anche per competenze professionali? Sì, non vengo chiamata, forse nessuno di noi viene… e anche le proposte che abbiamo fatto per iscritto… Lei non ha notato neanche aperture… Ma assolutamente, anzi una totale chiusura e le ripeto una tecnica di linguaggio che non so se è diciamo casuale o è curata apposta, è mirata solo a screditare. Inoltre penso che il sindaco con questa opposizione abbia un rapporto disfunzionale, perché quando lui parla guarda verso di noi, ma i cinque consiglieri che siamo seduti all'opposizione, dei cinque consiglieri, nessuno ha amministrato, io non ho amministrato, il consigliere Mario Di Guardo non ha amministrato, Claudia Daita, Ezio Reciti, Maria Puglionisi non ne abbiamo amministrato, quindi il rapporto disfunzionale è che lui dovrebbe rivolgersi alla sua maggioranza, cioè a quei consiglieri, a quella giunta e quei componenti che oggi ha nella sua maggioranza e che erano amministratori. Questa è la disfunzionalità dell'approccio che ha il sindaco con noi dell'opposizione. Consigliere, per concludere, abbiamo parlato di attività pregresse, ma come diceva anche il collega Sorace, ma guardando al futuro, quali potrebbero essere secondo lei gli impegni di questa amministrazione? C'è una programmazione, c'è il sentore che magari si voglia programmare qualcosa di significativo, in tema anche di opere pubbliche per esempio. No, di opere pubbliche francamente non lo si è, nel lungomare, ecco hanno fatto questo, hanno riproposto il progetto per il lungomare, del lungomare, quello che è vecchio di vent'anni e io avevo suggerito di modificarlo, lui ha detto che non si poteva fare perché hanno voluto, la regione siciliana ha chiesto che venisse mandato nella stessa formulazione, anche questa è una richiesta assurda e quindi questo sta riproponendo, un progetto che comunque io ho contestato anche con la precedente amministrazione perché a me non piace completamente, riduce di molto la carreggiata, amplia la pista ciclabile, amplia il marciapiede, insomma il lungomare e poi una cosa fondamentale è che il lungomare prima di essere realizzato, l'opera strutturale dovrebbe farsi il ripascimento della spiaggia, dei muri di contenimento. E dice che ci vogliono delle opere proprietiche. Certo, ma comunque questa non è colpa di questa amministrazione, non so perché le varie amministrazioni che si sono susseguite nel tempo non hanno mai… Mi pare che poi sono riconfermato anche lo stesso tecnico, mi pare di aver capito. Un tecnico che non ha mai avuto una nomina di vent'anni fa, un tecnico che ha riposto, ha lavorato e continua a lavorare moltissimo e quindi non lo so questa cosa come poi finirà. E quindi non so in termini poi, ripeto, della gestione ordinaria cosa pensano di fare per il verde, per la pulizia. Per esempio il contratto dei rifiuti solidi urbani, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani della pulizia del paese, già è scaduto, ma il segretario l'altro giorno diceva… Si va alla proroga? Ma la proroga con il nuovo codice del contratto, l'articolo 42 del codice del… il nuovo codice dei contratti pubblici, il 36, impedisce la proroga. Invece dovrebbero già cominciare a fare il bando per saggiare il mercato perché non è che ci siano tutti questi operatori economici che… e non si potrà ulteriormente fare la proroga perché se si viola la legge, la prima sarò io a fare i rapporti alle autorità competenti. Quindi non so neanche se in questo senso hanno una pianificazione. Li vedo, diciamo, impegnati piuttosto a tirare a campare, va bene, le cose… non vedo nulla. L'altro giorno il sindaco parlava, ecco, di un servizio complessivo per la pulizia del verde oppure, lo diceva in consiglio comunale, per la manutenzione delle maniglie, dei piccoli guasti, tipo un contratto di global service, no? Oggi si chiamano così, però bisogna vedere se ci sono le condizioni economiche per fare… e comunque deve… la vigilanza in questo caso deve essere massima perché nei contratti… Ci sembra di capire che le priorità sono ben altre, evidentemente, sulle cose più importanti si continua ancora… Sì, insomma bisogna capire che per gestire un comune non è che significa fare una ricetta oppure fare il favore… la gestione del comune deve essere, diciamo, una programma… deve essere fatta da programmazione, avere le idee e sapere affrontare le emergenze. Ecco, per esempio, una critica che io muovo a questa amministrazione è che ci sono state emergenze ma non sono state affrontate adeguatamente. Cioè il problem solving è un principio immanente degli amministratori pubblici. Oggi per amministrare ci vogliono competenze, nelle giunte ci vogliono almeno due persone competenti perché non sempre i funzionari che ti assistono hanno le necessarie competenze oppure anche a loro può capitare di avere delle carenze di conoscenza. Bene, Rosario, siamo arrivati al termine di questa puntata, ci siamo soffermati su questa prima relazione del Sindaco, naturalmente, sentendo l'opposizione, noi rinnoviamo, ne approfittiamo ancora l'invito al Sindaco… Speriamo che si roba questa tecnica del silenzio. Assolutamente. E anche questa cosa è incomprensibile. Esattamente, siamo sempre disponibili a un confronto e a una sua eventuale replica. Noi siamo sempre qui. L'appuntamento, come sempre, per giovedì prossimo alle 20.45, tutti una buona serata. Grazie, buonasera a tutti.